amiche amici buongiorno benvenuti alla nostra rassegna stampa del sabato molto molto ampia come tradizione vuole nel giorno che precede la domenica un saluto dal sottoscritto da mano e zocca in regia che ci permette di andare in onda saranno tante quindi le notizie che affronteremmo sia a livello e a carattere locale sia anche a quello nazionale per allargare un po la visione su quello che succede intorno a noi in prima battuta andiamo con la nostra webcam che questa mattina la vedete posizionata per farci vedere l'alba o comunque le prime luci del giorno da urbino il palazzo ducale di urbino che bellezza guardate peccato vedete quella gru sulla destra che magari non rende perfetta la visione del palazzo ducale con i torricini di urbino ma è davvero una vista magnifica quella della capitale del monte feltro che ci dà davvero il benvenuti in questo sabato mattina e darà il benvenuto ai tantissimi turisti che già sono a pesaro per il weekend lo vedremo poi anche con il resto del carlino che c'è davvero tanta gente in città questa mattina ancora non c'erano le locandine quindi non le abbiamo potute fotografare per voi ma le notizie erano incentrate comunque da quello che ci dicevano gli edicolanti soprattutto sulla questione del latte avariato e ovviamente i giornali ci vanno sotto ci vanno dentro e vedete scandalo del latte tutti gli indagati e il titolone del resto del carlino di pesaro il caso trevalli copperlat notificati gli avvisi di garanzia ecco chi è finito nel mirino della procura e l'articolo poi snocciola tutti i nomi delle persone attualmente indacate multe illegittime la cassazione dice che gli autovelox non vanno bene tutti i comuni della provincia di pesaro gli spengono troppo alto il rischio dei ricorsi quindi attenzione perché da qualche giorno gli autovelox non sono in funzione nella provincia di pesaro ma non solo in quella di pesaro ma anche in tante altre province italiane statua di pavarotti la moglie di nicoletta e le figlie di inaugurazione poi foto notizia del resto del carlino centrata sulla politica ci sono delle diatribe al di là dei sorrisi che fa vedere la foto del resto del carlino fra i due principali candidati sindaci ricordiamoci che ce n'è anche una terza biancani e lanzi che si sorridono sono finiti i sorrisi e andremo a vedere perché perché ci sono delle accuse ben precise lanciate dal leader della forza di centrodestra e poi morto a 79 anni gianfranco tonti ha guidato confindustria era titolare dell'IFI di tavuglia andiamo a vedere appunto quanta gente c'è in città secondo il resto del carlino tanta si e ne è contento soprattutto paolo costantini che è il presidente dell'associazione degli albergatori di pesaro perché gli alberghi sono davvero tutti pieni sorride di meno mario di remigio che invece presidente dei ristoratori di conf commercio secondo lui la gente non va a mangiare nei ristoranti ma al di là di questo e quindi delle annotazioni dei rappresentanti di categoria c'è da dire che la città è davvero piena di gente la foto rende perfettamente l'idea di quello che era il 25 aprile in città vedete con la biosfera tantissime persone in piazza del popolo davvero la città pullula di persone che sono venute a pesaro per un giorno un weekend non solo per seguire eventi sportivi come il caso dell'adriatic cup che ha portato più di 3000 persone fra ragazzi che giocano famiglie arbitri tutto il seguito dietro a questo torneo davvero tantissime persone a pesaro in questi giorni per pesaro capitale della cultura 2024 e non solo purtroppo il tempo non è stato amico e infatti vedete immediatamente la regia mi fa vedere la foto con le previsioni del tempo per il weekend nella nostra regione va un po meglio perché tra oggi e domani ci si attende comunque un po di sole per quanto velato pioggia all'interno vedete qualche goccia nella città di pesaro ma soprattutto poi verso i sibillini le zone montane ci aspettiamo che questo weekend possa essere un po meglio rispetto a quelli a soprattutto le giornate di festa del 25 aprile che poi in realtà non è stata funestata dalla pioggia il tempo è stato discreto quindi se così sarà sicuramente tutti gli operatori turistici saranno contenti perché comunque le città della provincia pullulano di persone soprattutto pesaro e quindi davvero è anche per i turisti stessi ovviamente poter visitare la nostra città con il bel tempo è tutt'altra cosa che con l'ombrello aperto andiamo poi all'omaggio a Pavarotti piazzata la statua la moglie Nicoletta e le figlie alla festa di oggi pomeriggio anche questa vedete sarà poi origine di polemiche da parte del centro-destra piazzata la statua la moglie Nicoletta e le figlie alla festa ieri è stato posato il bronzo in piazzale Lazzarini fra tanti curiosi il vice sindaco Vimini dice che qualche polemica c'è sempre è normale ma parliamo di un personaggio planetario che sentiva pesaro come sua lo stesso Vimini dice che magari sarebbe potuta essere stata posizionata a Baia Flaminia ma comunque poi in realtà piazza Lazzarini è il suo posto davanti al teatro Rossini statua alta 1,92 che pesa 182 kg per chi l'ha vista c'è chi dice che l'hanno fatto troppo magro beh certo che 182 kg ovviamente stiamo scherzando di bronzo non sono paragonabili alla massa di un corpo umano fatto di carne e ossa però effettivamente vedremo c'è tanta curiosità per questa statua e tanta curiosità ma anche tanta polemica perché ci sarà l'inaugurazione nel pomeriggio come vedete Marco Lanzi si lamenta addirittura chiama in ballo il prefetto perché dice attenzione la sinistra non si sta comportando in maniera corretta nonostante dall'11 aprile in poi non avesse poi più dovuto presenziare alle varie inaugurazioni così non è stato per una settimana e l'articolo proprio rammenta passo per passo tutte quelle che sono state le inaugurazioni cui hanno fatto presenza gli amministratori quando non avrebbero dovuto soprattutto magari facendo anche dei riferimenti al loro operato quindi c'è un davvero un vero e proprio grido insomma di allarme da parte di Marco Lanzi che dice non si stanno facendo le cose in maniera corretta secondo lui le cose si fanno bene solo da pochi giorni ma non è poi del tutto convinto e lo dimostra il fatto appunto anche oggi l'inaugurazione della statua di Pavarotti vedremo poi quale sarà l'effetto poi reale nel momento in cui si svolgerà ma certamente c'è comunque molta tensione fra le parti perché ribadiamo come dice il titolo politica al veleno Lanzi va all'attacco campagna elettorale piena di irregolarità il candidato del centrodestra chiede l'intervento del prefetto continuano ad inaugurare e fare iniziative vietate dalla legge basta dall'altra parte Biancani lancia la lista col suo nome c'è da correre niente scontato fa bene a dirlo due assessori uscenti Pozzi e Pandolfi tanti volti notri fra cui Stefano Cioppi direttore sportivo della VL c'è la foto di gruppo l'elenco di tutte le persone che sono candidate nella lista di Biancani e dall'altra parte invece il presidente dei geometri Giovanni Corsini che si presenta con Fratelli d'Italia va incontro a delle polemiche interne proprio al suo collegio perché è in lista, si dimetta, lui non ci penso proprio lui è il presidente dei geometri alcuni rappresentanti della categoria e sono 700 iscritti in tutta la provincia lo contestano e dicono che la sua carica non è assolutamente in cioè coerente col fatto che lui sia anche presidente dei geometri quindi gli chiedono le dimissioni lui dice forse temono ritorsioni sicuramente una polemica interna che però effettivamente pone l'attenzione poi sulla opportunità o meno di rivestire ruoli quando magari si è presidente di un'associazione, di un collegio, di una categoria professionale come nel caso di Corsini e anche impegnati direttamente in politica mentre poi c'è una presa di posizione di Valeria Gianni che è la vicepresidente di Gulliver che dice il signor Andrea Boccaneri non associ la politica a Gulliver vi chiediamo cortesemente di non essere associati a nessuna iniziativa politica e racconta tutte quelle che sono le iniziative della Onlus Gulliver che secondo lei non hanno a che fare con la nuova presa di posizione politica del presidente Andrea Boccanera Confindustria in lutto è morto Tonti della IFI l'uomo del design e dell'innovazione aveva 79 anni era stato presidente di Confindustria dal 2013 al 2017 quindi una figura molto nota aveva appunto 78 anni i funerali ci saranno a Cattolica lunedì è stato presidente degli industriali dal 2013 al 2017 domani Rosario a Sant'Agostino e lunedì funerali a Cattolica poi c'è il ricordo della presidentessa Baronciani da parte di Rossini TV le più sentite condolianze a tutta la famiglia di Gianfranco Tonti scandalo del latte avariato per quanto sia una notizia che davvero ha fatto molto rumore in realtà poi vedete la situazione è abbastanza anomala lo scandalo del latte avariato indagati i vertici e i dipendenti i nomi mai prodotti tre valli sono in vendita la perquisizione ha fatto rie marchigiane ha permesso di trovare sostanze adulteranti per 2,5 tonnellate però come poi viene sottolineata dai responsabili del copper latte in realtà il latte tre valli ancora negli scaffali dei supermercati secondo loro a dimostrazione del fatto che non è stato fatto nulla di particolarmente nocivo il resto del Carlino però elenca tutti quelli che sono gli indagati e sono proprio della tre valli copper latte che in questo momento sono coinvolti per frode in commercio nell'adulterazione del latte quindi bisognerà chiarire certamente è una vicenda molto molto ambigua perché bisogna sempre vedere qual è il limite di ciò che si può fare e poi di ciò che poi effettivamente è da fare per non andare a creare problemi alla salute di chi poi utilizza i prodotti altra notizia decisamente curiosa autovelox spenti in tutta la provincia meglio evitare i rincorsi a Raffrica allora cosa fanno i comuni? per non andare incontro ai ricorsi in quanto c'è stata una sentenza della Cassazione che ha annullato delle multe poiché chi ne era stato vittima contestava la regolarità degli autovelox hanno deciso di spegnerli quindi tanto per fare un esempio spenti quelli di Cucurano e Metaurilia per quanto riguarda la zona di Fano spenti quelli a Pesaro spento il famigerato autovelox di Cagli quello che è posto sulla superstrada proprio all'inizio del paese di Cagli insomma per non incorrere quindi nei ricorsi i comuni hanno deciso di spegnere gli autovelox quindi attenzione perché non ci sono in realtà delle modalità di rilevamento della velocità quindi potrebbe capitare che ci sia qualcuno che si fa un po' furbo e vada più veloce dove in realtà il limite di velocità è ben segnalato però è una vicenda sicuramente che va chiarita perché anche qui gli autovelox sono regolari sono omologati possono essere utilizzati le multe poi effettivamente vanno pagate c'è davvero tanta confusione su questo argomento la maggior parte delle persone magari che incorrono nella sanzione poi se ne liberano pagandola però c'è anche chi non lo fa e da qui si innesca un meccanismo a catena che ha portato adesso a questa conseguenza siamo alla pagina di Franco Bertini la definiamo così perché oltre alla lettera che è dedicata a Palazzo Perticari che sapete il palazzo lungo corso 11 settembre che è stato restaurato recentemente quindi a breve verrà riaperto al pubblico quindi c'è una lettera che permette di entrare nella questione c'è anche il blob di Franco Bertini ne abbiamo scelte due delle sue freddure la prima riguarda proprio il latte il latte con la soda la producevano le mucche da whisky questa è veramente carina potete immaginarvi poi primo maggio festa dei lavoratori naturalmente quelli ancora vivi quindi Franco Bertini fa ironia in maniera molto pungente ma anche molto efficace sulla piaga degli incidenti sul lavoro e poi c'è una curiosità per quanto riguarda un commento è arrivata una lettera al resto del Carlino di Giorgio Ghirelli che è il coordinatore del centro studio sociale De Gasperi dove fa un riferimento preciso alla festa della liberazione elencando tutti coloro che furono protagonisti di quel passaggio storico per la liberazione italiana e è stata celebrata non dimentichiamoci due giorni fa a livello nazionale c'è un appunto sul fatto che poi intervennero anche le brigate ebraiche che nella fattispecie contribuirono alla ricostruzione del ponte sul foglia vedete la lettera pubblicata dal resto del Carlino ma il bello è che, ve la facciamo vedere, è andata ieri anche sul Corriere della Sera quel ponte sul fiume Foglia distrutto dai tedeschi quindi ieri, cioè nella giornata di venerdì il Corriere della Sera l'aveva pubblicata oggi l'ha ripresa il Carlino comunque ha testimonianza dell'importanza della testimonianza davvero di Giorgio Ghirelli che racconta questa particolarità e vedete il titolo quel ponte sul fiume Foglia distrutto dai tedeschi quindi una vicenda che è stata portata proprio a livello nazionale andiamo avanti siamo a Fano è sempre il turismo la possibilità di visitare le nostre città è al centro dell'attenzione quest'estate la passo al camping sarà una stagione da tutto esaurito pensate ci sono 35 campeggi in tutta la riviera marchigiana di cui ben 9 nel comune di Fano quindi il comune di Fano è particolarmente ricco di campeggi lo sappiamo proprio davvero da Fosso Signore in giù senza contare poi anche quelli pesaresi immediatamente ridosso di Fosso Signore ma sono ben 9 c'è grande attesa per questo tipo di vacanza le cose sono andate così così nel weekend del 25 aprile a causa delle condizioni meteo ci si aspetta che per quello del primo maggio possono andare un po' meglio è tutto aperto dal 24 di aprile comunque grande attesa per questo tipo di vacanza davvero a contatto con la natura che permette di essere in piena libertà e poi c'è stato un furto a Fano sul quale torneremo poi anche col Corriere Adriatico slot machine ripulite dal denaro arrestati in tre elezioni politiche a Fano toto vuoto piovono reazioni un sondaggio realistico è stato effettuato un sondaggio da una società che darebbe in netto vantaggio il centro-destra addirittura al punto tale che il candidato avrebbe detto che se riusciranno a essere efficaci in questo ultimo mese di campagna elettorale potrebbero vincere addirittura il primo turno oggi ci sarà un confronto fra i tre candidati di Fano che ricordiamo sono Luca Serfilippi, Cristian Fanesi e Stefano Marchigiani a Metaurilia in occasione dell'inaugurazione della festa del cavolo quindi saranno presenti tutti e tre è l'occasione per ricordarvi che la nostra trasmissione amministrando sta davvero entrando nel vivo e vi annunciamo già che avremo la possibilità di seguire anche noi dai nostri studi proprio a ridosso delle elezioni quindi fra qualche settimana il confronto fra i tre candidati di Fano così come avremo quello fra i tre candidati di Pesaro la settimana immediatamente precedente le elezioni e anche quello fra i tre candidati di Urbino quindi davvero un momento importantissimo per la politica per le amministrazioni della nostra provincia le scandaglieremo a fondo grazie ad amministrando nelle prossime settimane la Fano che non ti aspetti tutti gli eventi è stato pubblicato il calendario davvero sono tantissimi gli eventi elencati nell'articolo sono talmente tanti pensate che alcuni ne sono rimasti fuori quindi il Carlino li ha sottolineati davvero tantissimi eventi addirittura da qui fino a dicembre Fano è una città vivissima viene offerta poi la tessera gratuitamente ai turisti delle strutture ricettive fanesi per poter frequentare i luoghi della cultura di Fano ma per poter avere anche una visione su tutto ciò che avviene nella città giorno per giorno è una veramente attività culturale fortissima quella della città della fortuna evidenziata vedete poi da questa bellissima foto che ci fa vedere anche come siano fantastici luoghi con l'arco d'Augusto Uniti per San Costanzo sempre politica lo sottolineiamo in quanto il titolo del resto del Carlino ci dice che accanto alla candidata sindaco Milena Volpe ci sono altri cinque componenti dell'attuale maggioranza ci mettiamo in ascolto Uniti per San Costanzo è stata quindi svelata la squadra poi un rimando alla chiusura del capitale della cultura che questa settimana per quanto riguarda i comuni della provincia di Pesaro era fratterosa poi vedremo che si inaugura la settimana di Fermignano clima caldo sul 25 aprile nasoni non condividiamo il discorso del sindaco diatribe politiche ad Urbino la presidente dell'AMPI interviene a un giorno di distanza i valori della Costituzione sono divisivi solo perché per chi non li riconosce risposta del o meglio le parole di Gambini tra incompressione e scontro politico gli estremisti vanno tagliati fuori questo è il discorso che è stato pronunciato in occasione del 25 aprile tante tante quindi le polemiche politiche a Urbino che sta vivendo una campagna elettorale davvero molto molto vivace festa dell'Aquilone sempre Urbino marchio di riconoscimento dopo 69 anni la tradizione cittadina si afferma sempre più come valore di riferimento per il territorio ci permettiamo di fare un rimando a una bella manifestazione sugli Aquiloni che si è svolta pensate qualche giorno fa in Romagna è stata frequentata da tanti pesaresi appassionati la cosa simpatica di questa manifestazione è stata che c'era talmente tanto vento che gli Aquiloni davvero hanno volato come non mai quindi è un momento veramente spettacolare quello che poi contraddistingue la manifestazione urbinata vedete ai giardini Albornoz con questa foto che ci fa già capire la bellezza in generale di tutta la situazione davvero la festa dell'Aquilone è un qualcosa che è stato proprio registrato e vedete con il logo stilizzato festa dell'Aquilone consideriamo che è davvero forse la più bella che c'è nel nostro territorio campionato nazionale di italiano uno studente dell'ITIS di Urbino Andreas Giovannelli della quarta A chimica ha primeggiato la sfida italiana quindi pensate si è tenuta a Dercolano quindi lui frequenta un istituto chimico ma è bravissimo in italiano chissà come farà questo accostamento culturale fra le due materie e poi siamo a Monte Cerignone sempre politica Chiara Bini il sindaco uscente di Monte Cerignone Carlo Chiara Bini dice che non si ricandiderà all'orizzonte forse una sola lista e poi ve l'avevamo anticipato vedete lo staff di Fermignano capitale della cultura sette giorni di eventi culturali si parte da lunedì 5 maggio e quindi davvero ci saranno tantissime cose da fare a Fermignano nella settimana in cui il bellissimo comune a pochi chilometri da Urbino sarà protagonista di Pesaro capitale della cultura capitale al quadrato chiudiamo il resto del Carlino ci spostiamo sul Corriere Adriatico Palazzi Cantiere che risico c'è un bel articolo all'interno del Corriere Adriatico che ci racconta la situazione delle ristrutturazioni dei palazzi nel centro di Pesaro poi la fotonotizia dedicata vedete a Tonti padron dell'IFI che a 78 anni è deceduto è bella la frase che gli dedicano i dipendenti forse la frase più bella che ci si può sentire per chi in qualche modo dirige fa l'imprenditore per noi era un padre svuotano la slot machine in un bar del centro banda sgominata Fano addio mezze stagioni la moda in affanno il fatturato in calo e questo è quello che riguarda la parte regionale del Corriere Adriatico che comunque quest'oggi non è particolarmente così indicativa quindi saltiamo direttamente alla cronaca di Pesaro Palazzi Cantiere tempo di traslochi fra il COC e l'ex BNL confermato il trasferimento del personale dell'Oliveriana nella vecchia sede della banca BNL in piazza del popolo si sgombra il mazzolare gli arredi vanno dal magazzino del centro operativo comunale quindi tutto il calendario di quelle che saranno le ristrutturazioni dei palazzi storici di Pesaro con un rimando molto molto interessante cioè il fatto che da lunedì il Duomo sarà chiuso per un semplice motivo saranno fatti cominceranno i lavori che dovrebbero durare un mese che porteranno alla fine di questi lavori alla possibilità di vedere pensate 200 metri quadrati di mosaici che in questo momento sono in realtà nascosti dal pavimento del Duomo se ne vede solo un piccolo spicchio ma sono talmente belli che in questo modo quindi si farà di tutto per far sì che siano più visibili ai visitatori peccato che siano proprio nel mese di maggio questi lavori che quindi per un mese le persone non potranno visitare il Duomo però al di là di questo una volta finito sicuramente l'approccio visivo sarà davvero straordinario per vedere questo tesoro che al momento è quasi nascosto nel pieno centro storico di Pesaro anche Nicoletta la scopertura della statua del maestro vedete la foto di Pavarotti e poi altra iniziativa decisamente positiva i tesori di Villa Meuccia in mostra due volte al mese grazie a FAI e Fondazione raddoppiano le visite alla Casa Museo di Villa Meuccia con tutte queste bellissime opere e vedete ieri c'è stata proprio la presentazione dell'iniziativa quindi è un nuovo sito storico da poter visitare in piena città addio a Tonti storico padrone dell'IFI uno shock per noi è stato un padre continuiamo a dire che questa è una davvero una testimonianza straordinaria di ciò che un uomo può fare nella sua vita aveva 78 anni da qualche tempo stava male dolore dei dipendenti lunedì mattina i funerali e poi questa bellissima frase finale che racchiude il suo pensiero i suoi mantra fiducia ai giovani e nel cambiamento fosse davvero così in maniera più estesa credo che il mondo avrebbe un futuro migliore l'atto adulterato pene fino a due anni l'inchiesta avrà dei tempi rapidi si attende l'esito dell'analisi delle 200 tonnellate di prodotti sequestrati tra cui soda caustica e acqua ossigenata quindi davvero è una situazione che va chiarita al più presto perché al di là del fatto fanno male non fanno male sicuramente leggere che nel latte è presente la soda caustica non fa piacere a nessuno soprattutto a chi l'ha bevuto o chi magari ce l'ha in casa chi lo vuole destinare a utilizzi alimentari come deve essere con il latte poi un appello aiutatemi a comprare un furgone per i miei due figli Cristian e Alessandro si muovono in carrozzina scatta la raccolta fondi per aiutare attraverso un crowdfunding questa famiglia e soprattutto per far sì che ci sia un furgone per far muovere questi due figli che purtroppo al momento si muovono in carrozzina quindi l'articolo del Corriere Adriatico dice come poter fare e ci sono tante possibilità per poter aiutare questa famiglia par condicio l'anzi si appella al prefetto e si scaglia nello specifico contro Belloni e della Dora ci sono assessori che utilizzano il ruolo istituzionale con l'intento di fare propaganda elettorale quindi continua a lamentarsi Marco Lanzi il candidato sindaco del centro-destra poi tutte le altre notizie l'abbiamo già visto Pandolfi e Pozzi con Biancani nella Rosa c'è anche Cioppi contento per Belloni ora basta attenzione l'adesione di una città in comune quindi alla lista di Biancani e poi in Europa nel segno della pace e del lavoro Alleanza Verdi e Sinistra punta su Smeriglio insieme a Santelli altra lista elettorale quindi le elezioni si avvicinano e il fermento è tanto Io Pavarotti e Pesaro Nicoletta mai più vista Edwin Tinoco assistente personale amico fino alla morte di Big Lusiano lavorava in hotel mi cambiò la vita in 5 minuti per Bono Vox pensate era ciccio ve li immaginate quindi la bellezza di Bono Vox il vocalist degli U2 il cantante degli U2 uno dei gruppi rock più celebri di tutti i tempi che vede Luciano Pavarotti e gli dice oh come stai ciccio bellina questa cosa perché poi in effetti è abbastanza così quantomeno pittoresca Museo della Marineria si inaugura la mostra sui navigli dell'Adriatico si inaugura oggi alle 16 la mostra navigli al Museo della Marineria a Villa Molaroni lo segnaliamo dopo il premio a Cattolica Marinucci presenterà oggi 2041 il suo romanzo al catalogo complimenti a Maurizio e poi andiamo a vedere anche qui registrato il logo degli Aquiloni ora la festa patrimonio Unesco abbiamo visto il logo che viene riportato anche nella foto del Corriere Adriatico ne parleremo a Verona al Tocca T Festival saremo un gioco storico lo dice Sirotti poi oggi in campo due liste a sostegno di Scaramucci e poi una questione che magari passa un po' in secondo ordine ma invece in realtà ci fa capire quanta gente ci sia stata nel giorno del 25 aprile tantissimi si sono mossi per andare da Pesaro Urbino hanno letteralmente riempito i bus di Adria Bus che si era organizzata in maniera normale come fa nei giorni festivi quindi anche con un comunque servizio leggermente ridotto rispetto ai giorni feriali è stato un disastro perché tantissimi si sono mossi da Pesaro Urbino con i mezzi pubblici e purtroppo si sono lamentati perché hanno dovuto fare un viaggio che non è corto non è breve ricordiamo si tratta di 30 minuti 45 peraltro in strada che prevede curve e via dicendo in condizioni abbastanza scomode sarà un'estate a lunghe 6 mesi eventi per far gola ai turisti ritorniamo sulla presentazione di tutti gli spettacoli concerti incontri sportivi tante novità ma vince la tradizione poi il discorso che avevamo visto qualche giorno fa giornalista per il comune primi ricorsi al tar quindi pensate un concorso per l'assunzione di un giornalista al comune di Fano che era partito anni fa nel momento in cui la questione comincia a dirimersi arrivano i ricorsi al tar chissà quant'altro tempo ci vorrà e poi Fano che partecipa al fatto che Genova quest'anno è capitale europea dello sport 2024 con la squadra carissimi 2016 protagonista in questi giorni del torneo nazionale 25 aprile giovanissimi calciatori quindi davvero Fano esporta il suo modello di sport e soprattutto puntato sui giovani in questo caso addirittura giovanissimi partecipando a questa manifestazione di Genova ed ecco la notizia di cronaca di cui parlavamo prima svuotano le slot machine in un bar arrestati in tre col bottino nell'auto provvedimenti confermati dal giudice per il capo della banda l'obbligo di dimora in Lombardia è stata vista questa banda proprio dalla polizia che è intervenuta praticamente li ha accolti sul fatto ed è riuscita quindi a far sì che gli 800 euro che erano stati rubati in contanti siano stati poi restituiti ai gestori di questo bar poi siamo a Fano sempre RSA del Cante attività sospesa nessun disagio per gli ospiti vedete il Cante di Montevecchio in via Oberdan lavori nell'edificio il direttore il distretto trasferirà tutti in strutture idonee quindi nonostante il fatto che ci siano i lavori poi coloro che in questo momento sono nella RSA saranno ricoverati in altre strutture e poi siamo a Monteporzio Moscatelli rompe gli induci è il nuovo candidato sindaco funzionario della ragione 66 anni Marco Moscatelli con la sua cifica sfiderà Sebastianelli quindi sono davvero tantissime le sfide che vediamo a livello di politica in questo periodo andiamo a dare un'occhiata velocemente a quelli che sono i nostri amici che ci seguono sulla pagina Facebook salutiamo Anna Fiorella Ornella tutti coloro che quindi già con noi e tutti gli altri che nella pagina Facebook ci stanno seguendo Fiorenza Michele Guiducci vedete da tutte le parti della nostra provincia della città ci sono gli auguri per una buona settimana che ovviamente noi rimandiamo a tutti quanti Michele Guiducci che dice e chi paga ma non sappiamo bene riguardo a quale notizia e via dicendo quindi davvero un saluto a tutti voi che ci state seguendo per noi questo contatto diretto è davvero molto molto bello molto bello poi ci sono delle precisazioni su Pavarotti su Parcondicio vedete peraltro Daniele Malandrino che è impegnato proprio nelle elezioni e le violazioni della Parcondicio a Pesaro è una pratica comune che lui dice si ripete a ogni campagna elettorale comunque questa è la sua opinione andremo poi avanti a salutare tutti gli altri Roberto Tommasoli davvero tanti davvero un saluto vero di cuore da tutti noi poi chiedo alla regia di lanciarmi la slide che ci fa vedere ciò che farà l'associazione Maya e vedete è un comunicato che ci è arrivato ieri ci fa piacere leggerlo ci sarà questo concerto organizzato dall'associazione Maya musicisti amatori italiani associati e dal coro euridice che sarà in concerto domani domenica 28 aprile alle 10.30 presso il Teatro Cinema Astra di Pesaro con un repertorio di musica classica e colonne sonore ingresso libero a esaurimento posti quindi davvero una bella opportunità per andare a sentire musica per andare a fare qualcosa di diverso in una mattinata festiva nella città di Pesaro alle 10.30 al Barastra e poi dopo lì è tutto bello quindi colazioni aperitivi davvero è un'opportunità ottima per passare una bella mattinata andiamo a vedere lo sport lo sport che per quanto riguarda la cronaca locale è ferma sempre alle solite questioni quindi c'è un po' di polemica anche i tifosi della vispesano non sono così contenti che il destino della visi sia legato all'ultimo scontro contro i cosiddetti baby bianconeri la Juventus next gen clienti scomodi c'è la ricostruzione di tutta l'incredibile svolta che ha avuto il campionato di questi ragazzi che pensate che hanno conquistato 35 punti praticamente nel girone di ritorno 10 vittorie 5 pareggi solo 3 sconfitte nelle ultime partite quindi la Juventus next gen probabilmente è uno dei clienti peggiori per poter pensare di posizionarsi in un certo modo nella griglia dei play out poi lo vedremo con il resto del Carlino ovviamente poi c'è anche la serie D col Fano che si aggrappa alla cabala ad Avezzano i Granata hanno perso una volta sola per il resto tanti pareggi e vittori considerando il fatto che bisogna vincere per forza speriamo che sia un buon viatico e poi il Fossombrone che vuole battere il Sora per salvarsi con noturno di anticipo Sora non dimentichiamoci dove ha giocato il Fano la settimana scorsa poi soprattutto attenzione posizionata sul VL domani pomeriggio contro Cremona ora pensiamo a vincere poi vedremo gli altri risultati c'è poco da fare non si può fare altrimenti bisogna puntare sulle proprie forze per prima cosa raggiungere il successo domani alle 18.30 la Vitri Frigo Arena contro Cremona e poi la Mega Box che conferma coach Andrea Pistola alla guida della squadra dopo il bellissimo traguardo dei play off raggiunto quest'anno il fascicolo sportivo del resto del Carlino ci permette di approfondire anche questioni nazionali più ampie come poi andremo a vedere tra poco con le prime pagine dei quotidiani per quello che riguarda la cronaca e la politica nazionale e internazionale intanto il resto del Carlino Sport Milan la Juve per rialzarsi questo è il weekend di Milan Juventus una partita molto interessante fra nobili fatecelo dire decadute ma effettivamente poi ancora la classifica è importante da costruire ci sono tanti traguardi da raggiungere vedete Pioli in difesa nella sfida fra deluse così viene definita andiamo a vedere le partite di questo turno di serie A è già stata giocata ieri sera Frosinone Salernitana con la retrocessione matematica dei campani in quanto il Frosinone ha vinto 3 a 0 poi abbiamo Lecce e Monza Juventus Milan e Lazio Verona oggi negli anticipi domani giocheranno Inter-Torino Bologna-Odinese Atalanta-Empoli Napoli-Roma Fiorentina-Sassuolo e infine lunedì 29 aprile Genoa-Cagliari quindi tante partite poi c'è un appello delle leghe del calcio d'Europa che protestano sul fatto che ci sono troppe partite troppe gare e in effetti così è pensate il caso italiano di una partita che dovrà essere recuperata fra due squadre che non hanno concluso il loro impegno a causa di un problema purtroppo del decesso di uno dei dirigenti della Fiorentina Atalanta e Fiorentina che non sanno tuttora quando giocheranno la loro partita è probabile che addirittura venga giocata alla fine del campionato perché non ci sono date nel quale poterla disputare soprattutto poi se le due squadre proseguiranno il loro cammino europeo e quindi forse non è del tutto sbagliato questo appello troppe gare anche perché poi vengono falsate dalla vicinanza l'una dall'altra dall'accavalamento degli impegni dagli infortuni dalle squalifiche e via dicendo si parla da tanti anni di una serie A a 18 squadre chiaramente la Lega è contraria per evidenti motivi di business anche se poi non sappiamo se è questo il modo per fare business giusto lo dimostrano i numeri col fatto che per esempio sicuramente il campionato italiano da un punto di vista di appetibilità mondiale per quello che riguarda i media non è certamente al primo posto è il Bologna Tiago Dribbling Champions penso solo all'Udinese Bologna voglio vedere la miglior gara dell'anno il Bologna sta facendo un campionato straordinario è al momento quarta in classifica vicinissima a una storica qualificazione Champions tanta curiosità sul futuro del suo allenatore Tiago Motta l'italiano di origine brasiliana che ha giocato anche una trentina di partite con la nazionale sta facendo così bene alla guida del Bologna ovviamente appetito da tante squadre sia di primo ordine in Italia ma non solo vediamo quale sarà la sua decisione se il Bologna si qualificherà per la Champions se deciderà di vivere questa avventura insieme alla società Rosso Blu e poi eccoci alla Vis Pesaro il titolo a nostro avviso è un pochino diciamola superficiale perché Vis con la Juve in palio solo la posizione obiettivo affrontare al meglio i playoff poi per fortuna ci si riprende nella seconda riga ma è una differenza sostanziale arrivare davanti o dietro alla squadra con cui si giocano i play out giocare i play out da meglio classificati significa avere la seconda partita in casa e significa soprattutto avere la possibilità di vincere il doppio scontro se i risultati delle due partite sono coincidenti quindi è una condizione fondamentale quella di poter essere in posizione migliore dell'avversario e quindi la partita di domani con la Juve Next Gen è di un'importanza assolutamente vitale per l'Avis Pesaro e speriamo davvero che possa essere raggiunto l'obiettivo quantomeno di poter svolgere e di poter giocare i play out da posizione favorevole di Fano e Fossombroni abbiamo già parlato Vuel Sacchetti mette in allerta la truppa in questo tipo di sfide serve la mentalità domani match vitale con Cremona non si può perdere si deve vincere non interessano le motivazioni altrui pretendo che la mia squadra ne abbia ma sicuramente le motivazioni non possono mancare considerate che domani ci sarà tantissima gente alla Viti Frigo Arena probabilmente sarà un'atmosfera di quelle paragonabili alle grandi partite della Vuel migliaia di persone che faranno il tifo per la squadra di Meo Sacchetti che sta tentando disperatamente di salvarsi con questo finale di stagione sicuramente migliore rispetto a tutto il resto speriamo che non sia stato troppo tardi questo risveglio della Vuel altre notizie pallacanestro atteso derby di semifinale fra Pesaro e ULB qui siamo in divisione regionale quindi ci sarà questo interessantissimo derby per la promozione partirà domenica l'attesissimo derby di semifinale playoff tra Pesaro basket e WLB e quindi davvero una lotta interna fra squadre pesaresi per la promozione che coinvolgerà tantissime persone tantissimi tifosi così come l'Ital Service con i playoff in tasca oggi gioca con Napoli anche qui considerate c'è l'ex tecnico Fulvio Collini che ha vinto tanto con la squadra pesarese sarà una bellissima occasione per salutarlo e per vedere una partita in preparazione dei playoff che quest'anno l'Ital Service vuole giocare da protagonista sport nazionale ci spostiamo al tennis qui ormai si parla di valanga azzurra nel tennis la valanga azzurra vuole Madrid Sinner al derby che test per Annardi ci si riferisce alla partita che oggi sarà intorno a mezzogiorno e mezza 13 contro Sonego di Yannick Sinner e siamo a Madrid dove spuntano vedete delle nuove stelle Fonseca e Mensic ragazzi terribili a caccia dell'impresa parliamo di tennisti di 17 18 anni quindi davvero il futuro di questo sport che si confronterà anche con il nostro Yannick Sinner che per quanto giovane c'è da dirlo quest'anno compirà 23 anni ha già raggiunto dei risultati straordinari ma sa già che dovrà confrontarsi con questa nuova generazione di campioni che sta venendo su e poi è la volta della rivincita fra Nadal ed è minor dopo che pochi giorni fa a Barcellona il grande Rafa Nadal è stato sconfitto dall'australiano vedremo come andrà a finire quindi davvero tanto tennis tanto sport in questo weekend mettiamo via il fascicolo del Carlino andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera facciamo una rapida panoramica sui temi nazionali e vedete ci permette il Corriere della Sera di affrontare il tema della candidatura di Roberto Vannacci che divide la Lega botta e risposta con il ministro Crosetto non tutti i componenti del partito di cui è segretario Matteo Salvini sono contenti della scelta del fatto di candidare Roberto Vannacci anzi e quindi c'è sicuramente un po' di maretta all'interno della Lega e poi una notizia davvero che così lascia abbastanza senza parole la questione che riguarda l'ex segretario del PD Fassino testimonianze su altri tentati furti è stato pensate colto in flagrante secondo l'accusa qualche giorno fa all'aeroporto di Fiumicino mentre tentava di appropriarsi indebitamente di un profumo a quanto pare era già tenuto sott'occhio in quanto ci sarebbero testimonianze su altri tentati furti è davvero una situazione che mette l'ex dirigente della sinistra in bruttissima luce in un momento peraltro in cui già qualche tempo fa vi ricorderete aveva fatto un'esternazione sul stipendio dei parlamentari dei politici che aveva dato molto scalpore andiamo vedremo come andrà avanti questa vicenda la Repubblica ci porta all'attacco di Meloni per quello che riguarda l'Europa vedete la prima pagina la Premier ha paura di restare isolata degli equilibri del dopo voto punta quindi a rafforzare l'intesa con Orban Vox e Le Pen domani alla conferenza di Fratelli d'Italia annuncerà la sua candidatura secondo un sondaggio UE si arena l'onda nera andremo a vedere poi Vannacci candidato spacca la lega ed è scontro fra Crosetto e Salvini ma la Repubblica ci permette di andare a vedere un'altra cosa che mentre quindi nella provincia di Pesaro gli autovelox vengono messi fuori uso per una questione amministrativa burocratica legata alla loro legalità in Italia c'è un boom di multe il bel paese pensate in cassa un miliardo e mezzo di multe andiamo a vedere abbiamo messo un segno per ritrovare immediatamente l'articolo l'Italia dei multati vale un miliardo e mezzo il comune più tartassato è in Liguria Carrodano la Spezia 2 mila euro per abitanti ma pensate che quindi in questo comune mediamente ogni abitante paga 2 mila euro di multe all'anno incredibile qui sarebbe da approfondire la questione al di là di quello che racconta l'articolo e vedete per proventi da multe sanzioni per violazioni delle norme nel codice della strada a carico delle famiglie 2023 Milano si piazza a 150 milioni di euro Milano 140 Firenze 70 e via dicendo Bologna 31 scendendo tutte le grandi città è quasi curioso che Napoli abbia solo 22 milioni di multe Palermo solo 16 milioni quindi secondo questa diciamo classifica dovremmo dire che le città come Palermo e Napoli sono fra le più virtuose sospendiamo qualunque tipo di considerazione andiamo poi al resto del Carlino che nella prima pagina ci fa vedere la grande foto del Papa perché perché per la prima volta il Papa è stato invitato al G7 a giugno Meloni svela che Francesco interverrà sull'intelligenza artificiale quindi facendo un discorso su etica e tecnologia e sarà la prima volta in assoluto che il G7 che sarà ospitato in Puglia a giugno ospiterà quindi un intervento del Papa è davvero una cosa che fa storia l'argomento poi dopo sarà declinato chiaramente da Papa Francesco ultima prima pagina che vediamo quella del messaggero che ci dà l'opportunità di fare decisamente una panoramica internazionale importante Hamas ostaggi decimati secondo il messaggero dei tanti delle centinaia di ostaggi se vi ricordate catturati da Hamas il 7 ottobre del 2023 ne sono vivi solo 33 quindi gli israeliani per voce proprio delle massime autorità dicano liberateli o entriamo a Rafah e si rischia davvero un ulteriore bagno di sangue poi inglesi in allarme re Carlo peggiora ma la casa reale conferma gli impegni e sottolineiamo la crudezza dei tabloidi inglesi che davvero mettono alla berlina la salute del re d'Inghilterra e poi scontro sulla Russia nuove sanzioni si aiutano Putin incontro fra Stati Uniti e Cina Blinken a Pechino disgelo USA Cina Xi Jinping meglio essere partner che rivali lo capissero tutti i grandi del mondo che invece preferiscono non solo essere rivali ma preferiscono fare le guerre davvero staremo tutti più tranquilli andiamo a vedere poi un'ultima annotazione e un approfondimento che abbiamo dedicato al ticket di ingresso a Venezia perché? perché sicuramente è una cosa innovativa per l'Italia innovativa poi per la città di Venezia è stato messo un ticket di ingresso per quello che riguarda alcune giornate festive per far sì che i turisti abbiano soprattutto quelli del Mordi e Fuggi soprattutto quelli che vanno a Venezia solo per una giornata abbiano da comunque pagare per questa loro volontà c'è chi cade dalle nuvole e pretende la multa insomma costerà 5 euro e vedete il titolo del Corriere del Veneto ticket Venezia supera il primo test in 15.000 pagano per visitare la città ma è tutta una storia qui da vedere perché poi all'interno sempre del Corriere della Sera c'è quello che riguarda un pochino le cifre di quello che è avvenuto il 25 aprile andiamo a vederlo 113.000 persone registrate 15.700 i paganti perché ci sono tantissime possibilità di non pagare questi 5 euro se si è residenti se si è amici dei residenti se si è a Venezia per visitare le isole e via dicendo e poi tutte le regole relative a questo a questa gabella comunale che Venezia chiede ai suoi turisti quando si deve prenotare la visita chi deve pagare il contributo tutti i turisti che risiedono in Veneto che non risiedono in Veneto scusate e che visitano Venezia ogni giorno di quelli segnati dal calendario tra le 8.30 e le 16 quindi già i Veneti sono esclusi sono esclusi i residenti insomma quando è la fine sembra che a pagare siano decisamente pochi non solo ci sono anche code scontri secondo la Repubblica ticket sui turisti dateci case non tasse vedete qui addirittura delle sommosse certamente i controlli sono molto molto difficili 78.500 euro sono gli euro incassati da Venezia il 25 aprile e poi chiudiamo questa carrellata con il caffè di Gramellini che ieri sulla Corriere della Sera che quindi da una parte dà notizie di cronaca assettiche descrivendo ciò che è successo dall'altra dà un parere attraverso uno dei suoi editorialisti più conosciuti Massimo Gramellini che lo definisce l'emendamento Spritz dice in poche parole attenzione e mandate a Venezia dopo le 16 così non siete obbligati a pagare i 5 euro andate a farvi un bello Spritz in Laguna sono talmente tante le possibilità di non pagare questi 5 euro che qui dice in poche parole che alla fine chi lo fa è il solito fesso è sicuramente una posizione abbastanza decisa quella di Gramellini sul ticket di ingresso a Venezia i controlli sono difficilissimi da effettuare certamente sarà una novità che i prossimi giorni perché in tutte le giornate che poi 2 giugno via dicendo anche durante l'estate ci sarà l'obbligo di pagare questo ticket in quelle condizioni a Venezia vedremo cosa succederà e se effettivamente l'iniziativa del Comune ha raggiunto il suo obiettivo che sarebbe quello di calmierare il turismo soprattutto per ciò che riguarda il mordi e fuggi così come viene definito 27 aprile pensate 10 anni fa e la regia ci manda la foto moriva un grande uomo di sport Vujadin Boskov allenatore che ha contrassegnato la sua carriera con lo storico scudetto vinto con la Sampdoria nel 1991 ci piace ricordare la sua frase più famosa che tuttora viene riportata da tantissimi quando devono discutere sulle decisioni arbitrali rigore e quando arbitro fischia punto non c'è da dire altro andiamo a vedere i programmi di Rossini TV per il fine settimana cominciamo a vedere i cartelli che ci manda Manuel venerdì alle 17.30 è andata in onda la prima lettura e commento del Vangelo della Domenica cura di Don Marco di Giorgio sarà replicato oggi fra un paio d'ore alle 10.30 e poi alle 16 nella giornata di sabato quindi e poi domani alle 8 e alle 11 abbiamo poi la natura della cultura magazine tutti i lunedì mercoledì e venerdì andiamo in onda con le notizie su quello che succede a Pesaro capitale della cultura 2024 il riassunto della settimana sarà oggi alle 12 e poi alle 19 e domani domenica alle 15 e alle 21 vi ricordiamo poi anche c'è capo obiettivo salute con le repliche dell'intervista al dottor Marco Fravisini medico chirurgo specialista in ortopedia argomento interessantissimo e futurista futuristico anzi protesi e robotica oggi replica alle 13.15 e domenica alle 19.30 poi lunedì ci sarà la nuova puntata di check up lunedì sera abbiamo poi ovviamente anche il nostro Rossini News Week le notizie della settimana oggi alle 19.30 e alle 23.30 domani domenica alle 6.30 12.30 22.30 per vedere tutto quello che è accaduto in città in provincia in regione nell'ultima settimana siamo arrivati alla fine so che non ne potete più sono quasi le 8.10 ringraziamo ancora una volta Manuel Zocca per averci dato una mano in questa lunga rassegna stampa del sabato buona domenica a tutti voi appuntamento alle 7.20 di lunedì con Buongiorno Rossini vi lasciamo alle previsioni meteo con Buongiorno Rossini